Perché Canon EOS RP proprio non mi piace? Oggi è un contesto un po' particolare, faccio una cosa che non mi piace, che non è nelle mie corde vi vado a raccontare perché una particolare fotocamera non mi piace proprio, non mi è mai piaciuta lo faccio non di mia spontanea volontà ma perché mi è stato chiesto da più di una persona ora attenzione, siamo comunque nell'ambito di un buon prodotto che costa quello che costa e fa quello che deve fare quindi non è una brutta fotocamera o videocamera, è semplicemente un prodotto che a me non ha convinto per niente andrò nel corso del video a spiegarvi come mai Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia in particolare vado a raccontarvi non la mia esperienza ma le mie impressioni su una fotocamera che non ho perché ho deciso di non acquistarla, ho deciso di passare al modello successivo parliamo di Canon EOS RP prima di cominciare però vi invito se siete nuovi sul canale a iscrivervi cliccando il bottone qui sotto attivate anche la campanella così siete sicuri di non perdervi le prossime puntate andiamo a incominciare Canon EOS RP è una mirrorless piccola, molto compatta, quindi questi potrebbero essere punti di forza è una mirrorless entry level quindi che costa molto molto poco e questo di nuovo è un punto di forza quali sono le cose che assolutamente non mi hanno convinto di questa fotocamera? sono delle cose estremamente pesanti dal mio punto di vista una fotocamera che poteva essere carina ma che è totalmente sottoperformante per cui io ho deciso di non acquistarla e ho deciso di acquistare Canon EOS R quindi il modello un pochino più progredito i motivi sono fondamentalmente questi partiamo dal sensore il sensore in sé non è malvagio è un sensore da 26 megapixel quindi è una simpatica via di mezzo tra i 20 a cui siamo abituati e i 30 a cui molti ambiscono tra cui ci sono anche io a me piace averne 30 quindi è una simpatica via di mezzo da quel punto di vista va bene questa fotocamera condivide tantissime caratteristiche con Canon EOS 6D Mark II quindi una fotocamera che di nuovo non ho acquistato io ho la prima versione della 6D però comunque sono già più propenso a valutare una 6D Mark II piuttosto che una RP perché? perché fondamentalmente hanno grosso modo le stesse caratteristiche ma la 6D costa meno e poi è una reflex quindi c'è una grossa differenza tra reflex e mirrorless la reflex è più professionale della mirrorless queste due fotocamere condividono per esempio la sensibilità ISO che va da ISO 100 a un ISO espandibile a 102.400 mi pare entrambe le fotocamere hanno il monitor tiltabile quindi da quel punto di vista sono molto simili prima grossa differenza la 6D gira solamente in full HD mentre la RP può girare in 4K quindi qualche piccolo upgrade c'è nel momento in cui ci serve il 4K però secondo me è un upgrade che non ha senso su una macchina come questa perché stiamo parlando di una 6D quindi una full frame entry level pensata per la fotografia e stiamo parlando di una RP una mirrorless entry level anch'essa pensata per la fotografia sono due fotocamere entrambe pensate per la fotografia e pensate per un pubblico amatoriale per cui mettere il 4K per un amatore secondo me non ha molto senso ora vi parlo un attimo dei punti di forza della RP rispetto alla 6D Mark II prima di demolirla innanzitutto il processore siamo passati dal DGX7 al DGX8 quindi da quel punto di vista ci sarà un miglioramento a livello di resa con gli alti ISO ci sarà un miglioramento ovviamente sulla velocità di messa a fuoco non dico di no i punti di messa a fuoco qui ovviamente il paragone è un po' pesante perché abbiamo una mirrorless che quindi ha quasi 500 punti di messa a fuoco contro una reflex che non ne ha neanche un centinaio quindi il paragone qui è un po' impietoso però c'è anche da dire una cosa se la state prendendo per fotografia che è per esempio il mio caso io scatto solamente col punto di messa a fuoco centrale focus and recompose io scatto solo così quindi se volete l'esperienza della mirrorless che significa che volete inquadrare la vostra composizione e non curarvi di dove è la messa a fuoco perché ci pensa la macchina in automatico la RPA comunque l'iDetective quindi vi trova la messa a fuoco da sola da quel punto di vista può essere una cosa molto carina se stiamo facendo fotografia dinamica e passatemi il termine da giovani se stiamo facendo fotografia tradizionale la Canon EOS 6D va benissimo si fa tutto lo stesso tenete anche conto che le cose si sono sempre fatte anche prima cioè i migliori fotografi del mondo scattavano a mano libera senza la messa a fuoco automatica dopodiché siamo passati magari ai modelli digitali siamo passati a EOS 5D Mark II con cui abbiamo visto cioè le fotografie più famose degli ultimi 20 anni sono state fatte con camere di quella fascia perché poi è andato un po' tutto in vacca adesso con Instagram foto famose non ce n'è più foto che rimangono nell'immaginario collettivo non ce n'è più adesso è tutto usa e getta quindi le foto più famose che ognuno di noi ha immagazzinato nella propria memoria sono state fatte con dei sistemi primitivi per gli standard di oggi si faceva tutto lo stesso è vero che la mirrorless è più comoda che ci permette di fare più cose però fondamentalmente ci permette di fare più cose facendo meno fatica e questo ci fa impigrire e ci fa diventare meno bravi in fine di conti ci fa semplicemente diventare meno bravi e rende accessibile una cosa che prima era difficile ed era per pochi la rende accessibile a più persone perché la rende più facile però non significa che sia una fotocamera migliore anzi una cosa va detta sommo vantaggio della RP rispetto alla 6D è l'ingresso cuffie per il resto entrambe le camere hanno delle funzioni che io trovo molto molto belle l'eye tracking focus come già detto ce l'ha anche la 6D Mark II quindi se apriamo lo specchio e la usiamo in live view abbiamo anche qui a disposizione ovviamente non è uguale la tecnologia su mirrorless funziona meglio però c'era già e abbiamo su entrambe il focus bracketing che è una cosa molto interessante ho già fatto dei video sul bracketing su questo canale quindi andateveli a recuperare se volete capire di cosa si tratta è una tecnica molto molto bella per mettere a fuoco completamente la nostra immagine ho fatto credo due video ormai su questo argomento quindi andateveli a ripescare ve li lascio anche in card è una cosa che su mirrorless viene molto meglio una volta che io ho imparato a farla su un sistema un pochettino grezzo come quello della reflex farlo su mirrorless è veramente un gioco da ragazzi perché è automatizzato il che significa che a livello professionale è una figata io sono contentissimo di lavorare su mirrorless per fare una cosa di questo tipo il focus bracketing è veramente una manna perché mi automatizza un processo che altrimenti dovrei fare a mano facendo fatica e mi dà la garanzia che il processo venga correttamente laddove magari facendolo a mano non ho questa garanzia perché sono un essere umano e posso sbagliare quindi questa è una gran cosa delle mirrorless veramente top che purtroppo sulle reflex non c'è stupidamente perché è una cosa digitale si poteva implementare tranquillamente anzi scusate in realtà ho detto un'imprecisione è una cosa che è stata implementata sulle mirrorless però in realtà l'avevano già cominciata a inserire anche su qualche reflex perché per esempio 6D Mark II mi risulta che ce l'abbia il focus bracketing quindi è incidentale che sia una cosa buona delle mirrorless è una cosa buona delle mirrorless solamente perché l'hanno implementata adesso e sui modelli vecchi delle reflex non l'avevano ancora implementata però è possibile anche sulle reflex ora andiamo a vedere quello che non mi piace di Canon EOS RP metto al primo posto la durata della batteria che è una cosa veramente desolante perché se con Canon EOS 6D quindi una full frame entry level reflex abbiamo una autonomia di batteria di più di 1000 scatti mi risulta 1200 scatti con Canon EOS RP abbiamo un'autonomia che non arriva a 300 cioè capite che abbiamo 1000 scatti contro 300 cioè è meno di un terzo è meno di un terzo dell'autonomia con meno di 300 scatti professionalmente non siamo sicuri di portare a termine il lavoro figuriamoci se ci hanno chiesto un girato se ci hanno chiesto un video è una fotocamera Canon EOS RP con cui non possiamo portare a termine il nostro lavoro dobbiamo portarci dietro più batterie e a quel punto il fatto che la camera sia più piccola non serve a niente se dobbiamo prenderci il battery grip e portarci dietro tre batterie cioè a questo punto stavamo più leggeri con una reflex più leggeri e più tranquilli anche perché non dovevamo ricordarci di caricare nove batterie ma ne bastava una quindi questo veramente questo è il primo punto per cui proprio ho detto questa fotocamera no altra cosa che assolutamente non mi piace di questa fotocamera il comparto video cioè è una mirrorless santa miseria ha anche l'entrata cuffie per fare monitoring cioè deve essere pensata per fare video in qualche maniera e il comparto video è incredibilmente scadente innanzitutto è una full frame che croppa quindi vabbè come anche Canon EOS R full frame che croppano perché erano le prime arrivate volevano farci comprare quelle e molti me compreso ci siamo cascati abbiamo comprato quelle e poi subito dopo un anno dopo neanche hanno fatto uscire il modello che non croppava che costava 1000 euro di più e ci sono quelli che hanno speso 3000 euro per prenderla quando è uscita e poi 3000 euro per prenderla nuova per avere il 4k senza croppe quando è uscito il modello nuovo quindi invece di 3000 euro gliene abbiamo dati 6000 io no io mi sono tenuto Canon EOS R perché non volevo dargliene altri 3000 Canon EOS RPA ha il 4k con un crop importante quindi diciamo che è un po' difficile acquistare una videocamera pensando che ti faccia il 4k e poi ritrovarsi con un crop che se ricordo bene è dell'1.8% quindi qualunque lente noi andiamo a montare è completamente stravolta non è neanche 1.6 come le APS-C è maggiore ancora quindi per quanto mi riguarda a livello video è veramente deficitaria da questo punto di vista poi attenzione io ho preso Canon EOS R per fare video ha lo stesso problema però ha ben altro sensore ben altre caratteristiche quindi diciamo che lì ce la si cava in questo caso avere anche questo crop su un corpo che poi attenzione ci fa solamente i 25-24 frame al secondo sui 4k ma questo è un problema e se io volessi girare a 30 non dico a 59 non dico a 60 non dico a 120 frame al secondo quello ci sta che non ci sia quello c'è su modelli più progrediti c'è per esempio sulla R7 che sto usando in questo momento la R7 ha i 120 frame al secondo ha i 60 frame al secondo è una macchina più progredita è una macchina migliore quindi ci sta che Rp non abbia proprio tutto però che diavolo almeno i 30 frame al secondo sul 4k secondo me potevano metterli poi attenzione secondo scivolone se noi diciamo va bene però il 4k una camera come questa si può anche evitare così abbiamo il nostro rapporto corretto giriamo in full hd sì certo però in full hd non abbiamo i 24 frame al secondo cioè ma perché perché cioè abbiamo i 60 abbiamo i 29 abbiamo i 25 non abbiamo i 24 frame al secondo perché perché manca questa cosa cioè se io voglio fare un video cinematografico lo devo fare per forza in 4k e se voglio fare lo stesso video in full hd non posso farlo devo farlo a 25 frame al secondo o a 29 frame al secondo perché questa cosa veramente non ha senso è palese che è stata fatta per mettere lì un intoppo per chi voleva fare video a livello un po' più serio in maniera tale che prendesse quella che costa di più per carità è una scelta di marketing che ci sta però quando mi chiedete ma Canon EOS RP è una buona camera io dico prendi un'altra anche per quanto riguarda il campionamento colore oddio abbiamo un 420 8 bit che non è male Canon EOS R7 è molto meglio però quindi bisogna anche vedere che cosa andiamo a cercare ovviamente se per noi è una fotocamera full frame con cui facciamo fotografia ogni tanto buttiamo giù qualche video va benissimo questo non è un grosso problema c'è di meglio spendendo la stessa cifra ecco anche senza rimanere per forza nel mondo Canon ci sono delle macchine meravigliose per esempio di Fuji Fuji ha buttato fuori dei mostri assoluti che magari costano simile a questa però ti danno molto di più Panasonic cavolo prendiamo una GH5 piuttosto la GH5 è meglio della RP a parer mio altro punto a sfavore mancanza del profilo log cioè perché perché Canon EOS R ce l'ha il profilo log io capisco la scelta di dire se vuoi quelle robe lì compri Canon EOS R che costa di più se invece vuoi giocare prendi RP che costa di meno e il log non ce l'ha è proprio una robina però sono quelle due robine che mi fanno dire no vabbè spendo un po' di più e prendo Canon EOS R e RP non la prendo perché le mancano proprio delle cose ora questi sono i motivi per cui io ho deciso che RP per me non va assolutamente bene una durata della batteria assolutamente ridicola vergognosa la mancanza di cose che per me sono essenziali come un pochino di versatilità sui codec e sui frame rate del video il profilo log che sto usando in questo momento per registrare cioè a me piace averlo il profilo log poi magari non lo uso però io voglio averlo questo per quanto riguarda il lato video mentre sul lato foto fondamentalmente è una Canon EOS 6D Mark II rivisitata in un corpo più piccolo quindi quando io mi sento chiedere ma secondo te posso prendere un RP la mia risposta è sempre perché non prendi la 6D che costa un po' di meno e ti dà le stesse cose se fai fotografia se invece fai video prendine una un po' più bellina perché se fai video con RP ti trovi male garantito al limone quindi questi sono i motivi per cui a me questa fotocamera proprio non è mai andata giù non ho mai valutato proprio mai mai valutato di acquistarla ora attenzione io sto anche facendo lo schizzinoso vi spiego perché perché io utilizzo da diversi anni Canon EOS 6D prima versione ora questa fotocamera RP probabilmente è meglio come resa perché è una camera più progredita con un sensore nuovo con un processore nuovo quindi se voi la prendete per farne lo stesso uso che io faccio della mia amata 6D prima versione probabilmente va benissimo per voi questa fotocamera perché vi dà comunque le stesse cose magari con un pizzico di qualità in più con un pizzico di gamma dinamica in più rispetto a quella che ho io sulla 6D ho altre camere che la asfaltano però quando lavoro con la 6D magari performo un pochino meno rispetto all'RP il motivo per cui per me non è un buon acquisto è semplicemente perché ho già scelto di comprare di meglio quindi io non valuterei mai l'acquisto di quella fotocamera però se voi magari venite da una reflex APS-C entry level e passate all'RP è un upgrade sicuramente cioè fate un salto di qualità enorme quindi va bene quello che dico è semplicemente attenzione perché magari con 200 euro in più vi prendete una cosa che è molto meglio e che vi dura molto di più perché intendiamoci che una camera come la RP arrivate a un bel momento che dite ok io adesso vorrei spingere vorrei fare qualcosa di più vorrei fare il 4K a 60 frame al secondo vorrei fare il 4K non croppato vorrei che cavolo ne so scattare in una certa maniera facendo determinate cose quella macchina non vi consente di farlo quindi questo è il ragionamento da fare magari con 200 350 euro in più vi prendevate una cosa che vi portavate avanti 10 anni mentre quella per me è proprio un entry level è veramente proprio solo un entry level quindi se la prendete per giocare costa anche troppo se la prendete per giocare prendetene un'altra spendete di meno prendete una roba più piccolina invece se la prendete perché vi piace la fotografia volete esplorare questo mondo secondo me vi trovate ben presto a dire ok qui è finita la benzina devo già procurarme un'altra e questo è un peccato questi sono i motivi per cui io non ho mai valutato questa camera e per cui a me proprio non piace non la considero molti di voi mi chiedono se può essere la camera adatta ovviamente se passate dal cellulare a un rp c'è un miglioramento sicuramente ci sono camere migliori e più edificanti che potete trovare a questo punto vi chiedo amici qualcuno di voi ce l'ha la rp fateci sapere in un commento come vi trovate fateci sapere che cosa vi piace che cosa non vi piace sono curioso di sentire le esperienze di altre persone perché io vi ho raccontato la mia però magari ci sono cose che non ho valutato per cui spazio a tutti nei commenti vi aspetto numerosi vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video Grazie a tutti